ciao sono sandra dello savon oggi ti faccio vedere come fodero gli stampi nei quali color sapone con questa carta che è la carta quella da macelleria quella usata appunto in macelleria per la carne e quant'altro ha un lato lucido e un lato opaco io questa la devo tagliare perché è grande sufficienza per ricoprire il mio stampo ma mi manca un pezzo in questo senso e quindi insomma ti faccio vedere come faccio prendo la misura del lato porto più un pezzo in modo da avere diciamo la parte interna dell'altezza più la larghezza più un pezzettino di sbordo lo tengo appoggiato sul bordo un po più lungo e con il dito fatto un segno lungo il bordo interno del mio stampo poi seguendo la piega che ho fatto vado a segnarmelo dritto utilizzando i bordi esterni questo non è importante che sia precisissimo dove ho fatto il segno perché tanto con questo bordo poi adesso vi faccio vedere come proseguire riprendo il mio stampo appoggio la mia carta sul bordo interno e l'appoggio e l'appoggio così dritta spero che si veda bene anche con il suolo qui allora poi metto peso io uso questo per pesante in modo da mantenermelo perfettamente allineato con il bordo prendo un pezzo di nastro carta che poi vi utilizzo anche dopo e me lo metto lì e faccio la stessa cosa in questo modo la mia carta non si muove poi la tiro bene in modo che sia ben tesa allora la tendo bene e segno con il dito questo bordo sempre il bordo interno da questa parte in questo modo segno la carta tolgo tolgo la nostra carta attenzione al nostro parlo ovviamente metto da parte che mi servirà poi per fissare la carta allo stampo in legno tolgo il mio stampo poi io uso un pennarello in modo da segnare dove avevo segnato col dito perché si vede veramente pochino invece in questo modo risulta un po' più evidente quindi a questo punto torno qui e piego seguendo ovviamente i segni che avevo fatto poi come vedi io ho un lato molto lungo ed uno decisamente più forte quindi devo tagliare quell'eccesso che mi manca sul lato che ti facevo vedere prima quindi a occhiometro o spannometricamente come dice qualcuno taglio via un pezzo in modo che questi due siano più o meno della stessa dimensione riprendo il mio stampo e questo ora lo utilizzo per quel pezzettino che mi mancava poi è rimasto del sapone devo portarlo via allora prendo il lato dritto ovviamente non quello dove ho tagliato e lo appoggio sul bordo inferiore e con l'unghia segno l'angolo e piego e faccio la stessa cosa sull'altro angolo quindi appoggiando bene dove ho segnato ora e segno anche l'altro piego ecco qua e ora vado a creare una piccola piegatura per il fondo del mio stampo ne basta veramente poco perché poi tanto ci sarà questa parte che lo copre e faccio vedere allora ecco qua poi taglio la piega uno e due e ecco qua ora taglio proprio in direzione dell'angolo qua così ecco qui utilizzo il mio pezzo di nastro carta per fissare il lato a legno allo stampo quindi fisso la carta a legno in questo modo giro lo stampo dalla parte opposta infilo il mio foglio bene in fondo ovviamente ecco fatto quindi in modo che il bordo corrisponda bene con questo lato e di nuovo con le dita vengo e mi segno questo bordo qua in modo da poterlo piegare il più precisamente possibile tolgo di nuovo il mio stampo in questo modo vedi che qui si vede dove devo fare la piega quindi lo faccio perfettamente perpendicolare allineando questa piega con questa in questo modo sono sicura di aver piegato a 90 gradi questi angoli e sono perfettamente perpendicolari poi vado qui si può o tagliare che è la cosa che faccio io oppure creare un angolo a 45 gradi perdon qui così per tirare la carta io per semplicità preferisco tagliare trovo che è molto più veloce si taglia fino all'angolo lì e da quest'altra parte ed ora si compone quindi rimetto dentro la carta del mio stampo bene qui in fondo apro i due angoli che avevo tagliato torno a tagliare lungo questo bordo in modo da poter piegare piego la mia carta metto l'altro pezzo di nastro carta di nuovo a fissare in modo che rimane in basso e faccio lo stesso sugli altri due lati il mio stampo è completamente foderato uno e due ed ecco qui ho il mio stampo completamente foderato in questo modo mi basta solo versare il sapone dentro e non si appiccica ovviamente al mio stampo di legno ogni tanto capita che il sapone è molto liquido e quindi fuoriesca un pochino da questi buchini che rimangono ma non è un grosso problema cioè al massimo rimane proprio un pochino adesso vediamo se si vede questa luce vediamo che è sposto ecco questi sono dei residui di sapone ma non creano nessun tipo di problema perché una volta che si sforma lo stampo di sapone si ingratta via il pezzettino va bene continuo il mio lavoro va bene continuo il mio lavoro ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui Grazie a tutti. Grazie a tutti.